Angela Cerbi fra il film radio dal Torino Film Festival sono con Claudia Algerini e Andrea De Luigi per il film Il Corpo buongiorno 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 in un siete una coppia in questo film dove però il personaggio femminile la moglie della coppia scompare subito ma non scompare rimane come una specie di fantasma di maledizione sul personaggio che interpreti tu Andrea e non so quanto è facile rapportarsi con un collega sul set quando i ruoli sono così diciamo diversi nel senso uno reale uno che arriva solo dopo come vi siete preparati tra di voi nel senso che il tuo sparisce all'inizio del film poi torna però fisicamente e nella realtà narrativa del film tu non ci sei il personaggio tuo allora sì perché praticamente che succede che questa donna noi siamo sposati io sono una donna molto potente molto ricca a capo di questa casa farmaceutica una donna di potere di polso molto di polso una donna un po eccentrica con un carattere spigoloso grande piglio manageriale sposato con un biologo con un uomo molto bello molto più giovane di lei questa è una coppia che ha delle frizioni no si vede che succede che questa donna muore e diventa questo corpo il cadavere che però nelle 24 ore successive sparisce dall'obitorio cioè vanno a aprono questo cassetto dove lei sta ed è non c'è più non si capisce che fine ha fatto da lì si scatena ma si va al ritroso a vedere la loro vita che io sparisco io no 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 certo cioè vengono se no che diciamo che no nel senso andiamo a capire qual è il mistero del mistero la sparizione del cadavere e cosa succede si inizia tutta questa indagine fatta dal meraviglioso e battistone andrea sartoretti che interrogano il marito perché in effetti poverini in una situazione diciamo complessa se si può però tutte le scene che noi abbiamo insieme da marito c'è da marito e moglie infatti le scene in cui noi siamo insieme noi siamo insieme carne e ossa sono difatti i flashback della nostra vita insieme che è partita benissimo no poi a un certo punto poi a un certo punto no ci siamo sposati ma subito hai capito che questa è una donna difficile parecchia molto difficile a me piace vedere bruno un po nonostante il suo temperamento come anche una vittima di quello che succede all'interno della storia e anche il suo passato non è un passato facile quindi lui ha questa necessità di riscattarsi e trova questa donna bellissima e molto ricca che gli offre l'opportunità di cambiare vita è un po quello che lui ha sempre desiderato ovviamente questo ha degli effetti collaterali non indifferenti e il loro rapporto che è così turbolento fa intendere immediatamente che lui possa essere l'assassino o addirittura che lui possa poi aver deciso anche di occultare il cadavere per evitare l'autopsia però c'è una frase all'inizio del film che se uno ci fa caso dopo se se la ricorda capisce perché il tuo personaggio fuori fuori campo dice mia moglie mi ha sposato per fare uno scherzo per fare un dispetto nuovo e ho scoperto che quell'uomo ero io e quindi è lì c'è tutto solo che uno se ricorda poi verso la fine questa frase è un film per te andrea molto cioè tu sei veramente tipo il parafulmine di tutto quello che succede non sei sta vittima in mezzo questa questa macchinazione e ci sono delle scene anche quasi di soprannaturale perché tu hai delle visioni ti trovi in situazioni incomprensibili oniriche e come un attore come si inserisce in quel in quel tipo di doppio mondo è fighissimo è fighissimo siamo contenti perché anche il film è fighissimo quindi siamo molto felici è bello perché un po di testi di responsabilità no perché se sei all'interno di un sogno oppure di una realtà distopica se non ti senti un po più libero di avere le reazioni spontanee in quel momento arrivano mentre stai girando e non sei collegato a una realtà oggettiva appunto no e quindi è interessante da esplorare come attore fare qualcosa lavorare all'interno di un sogno che abita come non si muove il tuo personaggio in un contesto diverso dalla realtà e in più è divertente perché proprio le idee che ha avuto vincenzo sono belle anche dal punto di vista visivo c'è questa macchina da presa che entra proprio nell'occhio di bruno a un certo punto poi torna indietro e quel punto torna in un'altra va in un'altra realtà anche la figura di lei che a un certo punto compare se si è un demone no esatto sono dei contesti in cui ti senti libero di esplorare vedere che succede ed è molto divertente e vincenzo ti ha dato questa possibilità di capire perché si vede tantissime idee e il film è ricco di momenti e in cui ci sono degli effetti speciali che che raccontano realtà distopiche ma in altri momenti invece sono delle metafore di quello che sta di capitando veramente quindi dei muri che si spostano in alcune circostanze è un effetto visivo ma in realtà siamo nella realtà c'è certo c'è claudia tu fai il tuo personaggio è un personaggio come tu hai detto all'inizio molto duro molto forte anche molto dark se una donna una dark lady con un potere che anche manipola sa come usarlo molto no ed è un ruolo che si confà molto non non dico che tu sei così nella vita reale però è ma il piacere però è a una il tuo dai una performance che proprio a 360 anni è molto rotonda molto profonda di questa donna ti sei divertita secondo me vero sì mi sono divertita perché in questo caso quando è un genere di film un giallo così e dove tutto si è costruito sull'ambiguità sul mistero sulla nuance che puoi dare ci sono degli sguardi che sottintendono tantissime cose e ti puoi divertire a spingere l'acceleratore e mentre in un dramma devi sempre essere molto realistica molto credibile devi e nel noir comunque in un giallo che anche un po di tinte horror qua e là puoi esasperare una risata puoi esasperare un una camminata e perché lei è una donna in qualche modo eccentrica un po pazza fa anche un po paura un po paura perché un po strega anche gode un po del disagio altrui di fatti si capisce molto di più il disagio in cui si trova Bruno il marito perché ha questo subisce no è un po vittima anche dell'amore della tradita per cui si sente una sfigata perché dice come mai non posso controllare perché abituata ad avere a possedere no le cose come se tutti fossero delle cose e questo è mi sono divertita tantissimo diciamo mia mia ecco un personaggio così forse non l'avevo mai fatto e ho fatto in un horror che si chiama the well poi è uscito pochi mesi fa dove sono anche lì una strega cattiva però veramente lì appunto dalle tinte fortissime questo tipo di questo questa rebecca questo tipo di donna è così anche che abbiamo sempre detto si trova molto in alto ed è molto sola perché non sa se le persone stanno vicino a lei perché vogliono i soldi il suo potere no e quindi come tante donne diciamo di di sostanza cioè di peso spesso sono sole e quindi mi ha dato la possibilità anche di esplorare quel tipo di tristezza negli occhi bene io parlerei per due ore ma non possiamo ringrazio molto claudia gerini e andrea de luigi per essere stati con il corpo di vincenzo al fieri grazie scusate un lapsus vi ringrazio molto ancora io sono angelo c'è un tarallino c'è un tarallino ma ne potete prendere un altro ancora angelo c'è per fred festival insider grazie Grazie a tutti